Il passaggio della nave pattuglia spagnola in Fanta Cristina, a largo di Gibilterra, che ha suscitato le proteste del governo della Rocca, rientra nella missione di routine di sorveglianza da parte della Marina di Madrid. Questo è quanto ha comunicato il comando difesa della penisola iberica. La Spagna non riconosce a Gibilterra acque territoriali di tre miglia dalla costa, in quanto nel trattato di Utrecht del 1713 all'Inghilterra è stata assegnata la sovranità solo sulla città, sul castello e sulle acque interne del porto. Il Regno Unito sostiene invece di avere anche il controllo sulle acque territoriali per tre miglia.